L'azienda agricola Cantine del Notaio nasce nel 1988, quando Gerardo Giura-Trabocchetti e la moglie Marcella decidono di valorizzare la tenuta di famiglia, unendo tradizione, innovazione, storia e cultura del territorio di Rionero in Vulture, in Basilicata. Hanno quindi deciso di seguire il metodo della produzione biologica per quanto riguarda la produzione olivicola e di organizzare visite guidate alle cantine scavate nel 1600. Le cantine del Notaio producono tre oli, l'olio da cultivar coratina di color giallo oro che all'olfatto si libra con un bouquet di pomodoro verde, lattuga, erbe aromatiche e al gusto offre sensazioni vegetali che avvolgono lasciando sensazioni di freschezza e che a tavola si può usare come protagonista di una minestra di cicoria. Poi c'è l'olio da cultivar rotondella di color verde limpido dai riflessi dorati con un quadro olfattivo strutturato da note erbace di cardo, cicoria e punte di pepe nero. In bocca risulta fine e piacevolmente aromatico con tocchi finali di pinolo. A tavola è perfetto per insaporire una ricca minestra amaritata. Infine un olio da cultivar oliarola del Vulture improntato su sensazioni di nocciola e noce e su un leggero tocco vegetale. Al gusto tornano sapori di frutta secca e a tavola è indicato per preparare del buon couturid lucano. Le origini della città di Rio Nero in Vulture sono antichissime come documentano i resti di un acquedotto romano e alcuni carteggi medievali riferiti al fondo al feudo di Santa Maria di Rivo Nigro del Vescovado di Rapolla. Per circa 200 anni si perdono poi le tracce dell'insediamento in seguito all'abbandono progressivo di questa zona in favore della ricostruzione di Atella. La zona viene ripopolata soltanto nel 1533 dai contadini discendenti dagli albanesi immigrati a Menfi. Dopo il terremoto del 1694 i signori Caracciolo di Torella ne fecero il loro feudo. A suddestra del comune si erge il monte Vulture, un vulcano spento che fa da sfondo a Rio Nero. Dal centro urbano partono anche interessanti escursioni che permettono di conoscere da vicino le ricche flora e fauna locali. Per quanto riguarda l'enogastronomia nei boschi del Melfese fra il mese di settembre e quello di ottobre si raccoglie marroncino di Melfi. Una castagna tondeggiante di grandi dimensioni con striature evidenti. Si tratta di una varietà ricercata poiché si presta sia al consumo del frutto fresco ma anche ottimo per lavorare il marron glacé. Sul territorio lucano sono presenti ricche sorgenti sfruttabili per imbottigliamento di acque minerali e nella zona del Vulture si estendono oltre 1500 ettari di vitigno rosso autoctone aglianico da cui si produce il rinomato aglianico del Vulture. Dal sapore sapido e armonico acquista gradevolezza con l'età e ha colore rosso rubino con riflessi aranciati. Per la gradazione alcolica fra gli 11 gradi e mezzo e i 13 gradi e mezzo si sposa bene con le carni bianche rosse ma anche con formaggi saporiti. Tra i dolci tipici della regione troviamo la cicirata ovvero panzerotti alla crema di ceci, dei biscotti farciti con crema di amarena chiamati bocconotti e gli squisiti dolci preparati a base di noci di trecchina.